la nostra stagione gare loro cominciano presto presto e lei quest'anno ha fatto i mondiali junior della scorsa stagione in nuova zelanda ad agosto e quindi presto siamo una squadra di super giovani direi perché avanti la stessa età che spingiamo un po tutti insieme quindi tre che è un'ottima squadra comunque ieri stavano pensando che un triple 16 non ha mai fatta nessuno in uno slot potrebbe essere una bella cosa comunque avere una sorella in squadra significa tanto per me mi stimola anche mi aiuta a confrontarmi con lei averlo in squadra è come un secondo coach quindi ha sempre un consiglio più da darmi quando usciamo lo prendo un po come un punto di riferimento io amo questo sport è proprio perché si riesce a esprimere le proprie emozioni e insomma quello che sia dentro di questo discorso poi ovviamente all'inizio magari può sembrare pericoloso come sport però alla fine è anche molto emozionante vedere gli altri che saltano e ovviamente farlo la giusta dedizione e la giusta costanza creda si possa fare qualsiasi cosa